Nicola Zaleschi verticalizza per Calafiori che ha la possibilità di andare al cross, lo mette dentro, poi il controllo di Carles Perez che riesce a trovare una conclusione precisa, arriva il gol dell'1-0, Villar poi allarga ancora per Borca Maioral che va a mettere il cross, il colpo di testa, arriva il gol da parte di Mancini per il 2-0. Zaleschi, prova ad accelerare, ancora Zaleschi, l'appoggio per Mkhitaryan che entra nel rigore, Mkhitaryan l'appoggio, questa volta arriva il gol di Borca Maioral per il 3-0. Seguiamo però ancora la Roma con il tocco largo per Carles Perez che si ferma, vuole ancora un compagno in appoggio e trova la conclusione vincente Riccardo Calafiori per il gol del 4-0. Il tentativo di cross, palla per Borca Maioral, è qui, non ci può fare veramente nulla il portiere perché il pallone... Qui l'anticipo da parte ancora di Zaleschi, palla per Borca Maioral, la conclusione arriva il gol del 6-0 al decimo minuto, Borca Maioral, Reynolds 1-2 con Zagnolo, Reynolds però ad entrare l'americano, finisce giù calcio di rigore. Dal dischetto Nicolò Zagnolo con il sinistro, parte Zagnolo e ritorna il gol, anche Nicolò Zagnolo e qui c'è l'applauso anche di tutta la tribuna presidenziale. Diavara, Reynolds, Diavara, ancora scambio, sempre Diavara all'interno del rigore, lo scarico per Zaleschi che si mette in proprio e trova il gol dell'8-0. L'inserimento di Borca Maioral, sempre Zagnolo che combatte anche da terra, poi Borca Maioral, Zagnolo continua ad insistere, la conclusione di Diavara, arriva il gol del 9-0. Arriva Diavara. Borca Maioral, il pallone ancora tre pede lo spagnolo che incroce, trova il gol del 10-0 e trova anche il suo quarto gol personale in questa partita. Borca Maioral incroce il diagonale. Borca Maioral, il pallone ancora tre pede lo spagnolo che incroce, trova il gol del 10-0.